Ho iniziato quasi trent'anni fa, nel 1988. Ho imparato nella zona in barriera di Milano da una signora, sono stata dieci anni e poi mi sono messa per conto mio. Mi avevano detto che c'era un negozio qui nel borgo e sono venuta a vederlo e insomma mi è piaciuto e così è nata la mia storia in questo borgo. Ho iniziato con i prodotti della Medavita da quasi appunto trent'anni. Si tratta di prodotti naturali e poi oggi diciamo che siamo un pochettino tutti più attenti se vogliamo a questo. E proseguo così perché mi trovo bene io ma anche nello stesso tempo anche i miei clienti. Praticamente una ragazza qualche estate fa è venuta e mi ha chiesto di raparla a zero. Io sono stata un attimino perplessa, avevo i capelli un po' lunghi e ho iniziato a tagliarli non eccessivamente corti e lei mi ha preso per una mano e mi ha detto ho detto rasata. Grazie.